La Ress Buongiorno Bene Io mi sono fatto la Ress Perché quando ho detto la Ress No, diciamo così, nel metto pari, va bene? E poi io faccio la riserva, ma non si possono fare le foto. No, diciamo così, nel metto pari. No, diciamo così, nel metto pari. No, diciamo così. No, diciamo così.